Roberto Lipari è il vincitore della prima edizione del Talent di La Sette, eccezionale veramente. Il comico palermitano ha conquistato il primo posto battendo gli altri tre concorrenti rimasti in gara, il duo Getti e Baldieri, Giovanni D'Angella e Francesco D'Antonio. Grazie alla vittoria, Lipari si è giudicato un contratto di due anni da 100.000 euro con la Colorado Film. Il comico si era fatto notare dalla giuria e dal pubblico sin dalle prime selezioni. Ma è scontato e volgare, il palermitano è stato in grado di coinvolgere con la sua allegria e vivacità proprio tutti. Il comico ha così commentato la sua vittoria. L'emozione supera quella del rigore di Fabio Grosso ai mondiali. Ringrazio di cuore tutti per l'affetto e per i tantissimi messaggi di incoraggiamento ricevuti in questi giorni. Non mi aspettavo di vincere perché il finale con me c'erano tanti altri artisti molto bravi e il risultato è stato incerto fino all'ultimo. I quattro giudici chiamati a valutare i comici erano Diego Batantuono, Selvaggia Lucarelli, Paolo Lurfini e il regista Pupiavati che hanno dato il massimo punteggio a Roberto Lipari che è andato allo spareggio con altri due concorrenti per il titolo di comico dell'anno. Infatti pure quando crescono molti non hanno un ordine logico nel loro lavoro. Per esempio i dentisti, non capisco perché il dentista prima ti paralizza la bocca. Poi ti mette il gancio, poi l'aspiratore e dopo ti fa le domande. Ma come minchete il rispondo? Il problema è che chi non ha ordine logico vuole dare l'ordine a tutto. Per esempio anche i sentimenti con la frase tipica che qual è il tuo uomo ideale? Non esiste, infatti le risposte sono confuse. Il mio uomo ideale deve essere sicuro ma indeciso, calmo ma aggressivo, triste ma allegro, uno schizofrenico, questo non sa il cazzo che fare prima. Grazie.